5 4 3 2 1 vai tornate sinistro e subito tornate destro per tornate sinistro e subito tornate destro e in destra 4 per sinistra 5 10 sinistra 3 20 sinistra 5 e in destra 5 e in destra 5 20 sincana entra a destra attenzione sconnessa sincana entra a destra attenzione sconnessa 30 destra 5 200 vai 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 giù tutto vai giù tutto alla casa gialla sinistra 4 per destra 5 50 ai palli sinistra 5 dopo pallo sinistra 2 scivola scivola sinistra 2 scivola 100 grande 100 sinistra 5 20 destra 4 per sinistra 3 per destra 3 apre 10 sinistra 4 e subito sinistra 2 salta subito sinistra 4 salta subito destra 5 100 100 sinistra 5 su dosso 10 destra 5 10 dosso 50 vista al pallo destra 5 10 sinistri fine cancellata sinistra 3 no 50 vista destra 4 per destra 5 20 inversione sinistra no inversione sinistra no guarda che cosa è tutta poi brutta eh 20 destra 3 più no 10 sinistra 2 per destra 2 molto sporca 20 destra 5 e subito sinistra 2 apre lunga 50 destra 3 10 10 accenno sinistro 20 destra 3 apre 50 no no a rail sinistra 5 destra 5 molta attenzione sinistra 2 200 100 vai così accenno destro 10 sinistra 5 lunga al cartello destra 2 20 20 20 destra 4 2 tempi 20 sinistra 3 no 10 accenno sinistro per destra 3 20 sinistra 3 lunga attenzione subito attenzione subito destra 2 in sinistra 3 in sinistra 3 destra 2 in sinistra 3 20 destra 4 in sinistra 3 scende molto sinistra 3 scende molto per destra 3 e subito sinistra 3 150 allo stop in versione destra allo stop in versione destra in versione destra accenno sinistra 300 vista vai a fuoco fine si così così così